ciao a tutti allora aggiornamento sui cipressi oggi è 5 di febbraio quindi è passato veramente tanto tanto tempo le piantine sono grandicelle oramai sono passati tanti mesi da quando le abbiamo piantate e vi volevo far vedere cosa sta succedendo allora ha fatto molto freddo le piante sono rimaste in serra per un mese io la serra la apro solo un giorno a settimana per innaffiare le piante e poi la richiudo proprio perché temo che il freddo possa danneggiarle ho cominciato qualche settimana fa a notare che alcune alcuni alberelli stanno soffrendo ma non non capisco il motivo e non so neanche se è una cosa normale o se insomma devo preoccuparmi stanno ingiallendo le foglie di alcuni alberelli adesso però ve lo faccio vedere però questa cosa non ha toccato tutti anzi molti continuano a crescere continuano a mettere rametti e sembrano in salute vi faccio vedere però allora questi sono tutti i nostri cipressi ce ne sono veramente veramente tanti ve lo ricorderete e poi qualcuno faccio vedere tipo questo ad esempio sta cominciando a mettere qualche foglia gialla non ho ben capito il motivo qui addirittura vedete uno è diventato quasi del tutto giallo ce ne sono altri sì qui ancora c'è uno che ha messo delle foglie le più vecchie gialle qui lo stesso uno che ha messo delle foglie gialle insomma sta succedendo questa cosa ma non so ancora se è una cosa grave o meno in qualunque caso per esempio comunque si vedete stanno mettendo diversi rametti quindi comunque continuano a crescere specialmente le prime che ho puntato alcune sembrano essersi un po fermate però vabbè poi vedremo insomma può essere anche solo che è una fase invernale questa e io per il momento non sto diciamo espiantando non sto togliendo le piantine che mi sembrano in sofferenza sto aspettando perché non so realmente se è una cosa normale o se è anomala quindi aspetterò ancora qualche settimana magari qualche mese vediamo se le piante si riprendono e speriamo insomma che si riprendano altrimenti le toglieremo e poi ci pianteremo altri in questi vasetti l'anno prossimo pianteremo altri cipressi va bene questo è l'aggiornamento 5 febbraio ciao alla prossima